oggi si celebra la giornata internazionale degli studenti siamo in collegamento con il professor luca vanni direttore dell'ufficio scuola della diocesi ecco innanzitutto come è nata e qual è il significato di questa ricorrenza quando è stata istituita allora questa festa è stata istituita nel 1941 e in piena seconda guerra mondiale fu istituita grazie alla volontà dell'international union of students per ricordare il sacrificio di 1200 studenti cecoslovacchi che furono deportati per lo più ad auschwitz birkenau e da lì soltanto pochissimi ne fecero ritorno e quindi dal sacrificio di questi giovani fu deciso di istituire questa festa peraltro questa festa non è ancora riconosciuta ufficialmente dalle nazioni unite e l'associazione che la patrocina sta tentando ormai da alcuni anni di vedersi riconosciuta a livello internazionale attraverso l'onu questa stessa festa e qual è il significato di questa giornata oggi in questi tempi così particolari così difficili di cobit che stiamo affrontando ecco certamente oggi più che negli anni precedenti questa festa assume un significato importante già che naturalmente nel tempo aveva già curvato su un significato tendente a ad accogliere gli studenti nella ottica della multiculturalismo dell'integrazione della solidarietà questi aspetti oggi più che mai in tempi di pandemia assumono un significato assolutamente fondamentale è chiaro che gli studenti europei e italiani in particolare vivono in queste settimane di nuovo una lockdown ed una chiusura delle loro scuole che li allontana dal contatto fisico e sociale con i coitanei generando quella che gli esperti definiscono la sindrome della capanna che ha dei risvolti negativi sul piano psicologico e sul piano della loro crescita in questa fase di sviluppo è naturale che questa festa deve mettere noi adulti e operatori della scuola ma anche genitori nella condizione di ottimizzare al meglio la possibilità di aiutare i nostri figli e i nostri studenti sostenendone questo sforzo aggiuntivo che non è più solo uno sforzo di didattica ma è uno sforzo tendente a far superare loro questo scoglio e questa difficoltà che stanno oggettivamente vivendo io noto nella didattica a distanza ogni giorno che passa ragazzi che sono sempre più stanchi e tendono a demotivarsi e quindi ovviamente dobbiamo essere più attenti più di quanto non lo siamo stati fin qui per aiutarvi